Ciao Piff, io sono Magicolo e con questo brevissimo video ti voglio ringraziare per il tuo lavoro e per tutto quello che stai facendo sia su internet sia in tv e ti voglio anche dire che sono contento che non ti sei mischiato insieme a quei personaggi televisivi che prendono in giro le persone e intanto rovinano il paese e quindi ti voglio anche ringraziare per l'ultimo film che hai fatto, la mafia uccide solo d'estate anche se sappiamo benissimo che d'ora in poi la mafia non ucciderà più, speriamo Ciao